Adoro, poverizzo interessante, ma il cavale di quattro anni sul doppio chilometro, argento vivo, amministro, genita, amastra, genita, atomica, pazza, allegra, gifo, lupo, chi va a metta, fa un linda, e a voglio, genita, legati a una torta studeria, due stelle, amministra, ti auguro, anche due carriati, genita. Poi, è una tratta atomica, che poi prende le ali, o genita, di prendere. Stirati un po' l'argento vivo, via la macchina. Adeliscio lì, allegra, gifo, lupo, di dentro, argento vivo, pazza, adeliscio, interviene all'ergo, allegra, gifo, lupo, i cavalli affrontano la piegata di dentro, e argento vivo. Ora Antonio Di Nardo potrebbe puntare in avanti con la sua lega, e si completa il lancio in quattordici e mezzo. Infatti si procede a lega su all'inizio, in gradattamento, la sopravvanza, e dopo un quarto iniziale da Alcomando, in terza posizione, l'argento vivo. 28,9 sul mio cronometro per la lì della lega. E i cavalli ho raccontato in fila indiale alla seconda curva. Si completa la lega, questa frazione, 644,6, e ora può già graduare abbondantemente, il buon Antonio Di Nardo, con la sua targata gifo. Fa la mezza lunga, il gesto vivo è un po' di sofferenza. Si completa la piegata, mezzo miglio iniziale, in un'anun e nuova addirittura, 17,2 di frazione. Adormenta la costa l'allegra Gifonte, ne approfitte tre di ananas, ma viene controllato l'argento vivo. I due vanno su allegra, che deve cambiare musica, lo registro. 17,8 sul mio è il primo filometro. Terza ruota per l'ananas, che ci spinge. Argento vivo su allegra. Tre cavalli in diagonale, attenzionano nell'arrivo. Mezzo miglio alla conclusione, una frazione in quindici e mezzo. Ma allegra per il momento, tiene da parte argento vivo, che si limita a mezzo cavallo, poi di dentro, a miricio, ananas, e poi atomica. La frazione di fronte, 14,4. 500 alla meta, i cavalli affrontano la curva finale, con la leader sempre al comando. Il miglio sul mio in due e due. E siamo al completamento del latigato con la marascià che allunga. La maglia al completamento e la curva finale allunga allegra. Prende l'antaggio allegra di fronte. Argento vivo non percebe la banca per a mezzo agente. L'orto è coniglia pronto per cambiare. Il termo si sta per avvicinare allegra. Dio nel dibattito e con la marascià. E' un frazione di distrazione. Uno al quinto di due e tre, signori. Quest'è un'altra parte che ha tagliato il punto delle fontanette. E' di palina. Vado con la ronda, questo apparecchio è un po' di stoppignolo. Ma la fine ci accorrono ancora una volta. Ma che questo è un amici oggetto. Un'altra incontro in chiusura. Per la marasciana della team Casillo e Antonio Di Nando. E' tutto per il momento. 1,15 il doppio chilometro. 1,38 in chiusura.